La festa del Ramadan, celebrata fra i maomettani della Smara con la preghiera collettiva dinanzi alla moschea. Come è noto, il Ramadan è il nono mese dell'anno maomettano, dedicato al digiuno che deve essere rigorosamente osservato dall'alba al tramonto. E la fine del digiuno, una delle più grandi feste religiose dell'istratismo, santifica con precie delle mosche. La festa del Ramadan 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 La festa del Ramadan